Finalmente siamo usciti da Pavia e stiamo attraversando il ponte che a sua volta attraversa il Po. Andiamo! Sempre che non cado giù io dal ponte. E traballa un po'. Quando passano il camion, traballa un po'. Ecco, questo è quanto. Il ponte è proprio lungo. Ma se non sa esattamente quanto. Eppure. Oh! E molto probabilmente un paio di chilometri. Non ho letto. Eccolo qua, finalmente. Siamo quasi sopra il Po. Eccolo qua. Chiomè, qua. Eccolo. Eccolo qua, siamo arrivati sul Po, adesso in direzione Monferrato. Ecco, abbiamo attraversato il ponte, siamo sulla ciclovia, i due soci di viaggio, il Po, e qua davanti a noi la ciclovia, o quella che sembra, no ma è bella, starrata al punto giusto, bello, clima perfetto. Che dici Francesca? Perfetto, non fa caldo, non fa freddo, giusto. Senti, vamos. Lui è in freme, cioè sta vedendo la visione là in fondo della Madonna. Vedi che c'è una cappelletta là. Vedi là in fondo là, sta vedendo la visione, adesso tra un attimo è giù. Avete capito tutto, quindi siamo piazzati. Quindi vi ripeto, a sud abbiamo l'oltrepoco del buon vino. Andiamo a berlo allora. È giunto il momento. A dopo. Ecco, siamo appena usciti da San Nazaro dei Borgundi e siamo subito dietro alla ciclovia del Po. Vediamo già là uno che sta andando a cavallo, ma molto lontano. Bene. Finalmente sono giunto a Casal Monferrato. Bene, adesso stasera berrò del buon vino, mangerò tanto riso e non so, poi vedrò la sera come è fatto a Monferrato. Vi saluto, Francesca, Tinti. Andiamo a vedere com'è Casal Monferrato. Lui, suo vino.